Siamo quindi al tavolo dei relatori, alla sedia dei relatori, scusate, siamo talmente abituati ad avere il tavolo dei relatori, ma oggi non c'è tavolo. Quindi alla sedia dei relatori, il direttore Elena Calandra. Con un titolo molto pop, Video Kill the Radio Star, raccontare le immagini quando non ci sono. Ho scelto questo titolo, che è il titolo di una canzone del 79 e poi lanciata nell'80. Sì, è un titolo pop provocatorio, ma perché secondo me ha cambiato un po' un paradigma nella comunicazione, perché ha rappresentato la presa di coscienza della prevalenza delle immagini rispetto ad altre culture, ad altri aspetti, come era la radio. In realtà non è così, perché la radio ha continuato a vivere e a prosperare, ma perché la radio? Perché è quello strumento che senza immagini permette di immaginare. E quindi è quello il motivo per cui ho scelto questo titolo intenzionalmente provocatorio, per riflettere su un tipo di documentazione, di evidenze antiche che non hanno lasciato tracce. Cioè le manifestazioni effimere, che erano di vario tipo, ho questi appunti solo di supporto, ma per ricordare per esempio il carro funebre di Alessandro Magno, o la tenda che un sovrano, Tolomeo II, si fa costruire nei palazzi di Alessandria, con la processione collegata, altre informazioni abbiamo per esempio sulle navi che un altro Tolomeo si è fatto costruire, su una processione promossa da un dinasta di Siria, Antioco IV. Di tutto questo non resta traccia, ma allora perché lo studiamo e come facciamo a studiarlo? E detto tra parentesi, ma non troppo, che senso ha studiare argomenti del genere? Allora ho voluto dare brevemente un esempio di come gli archeologi studiano questi monumenti, proprio queste testimonianze che non hanno lasciato tracce materiali. E ne ho scelta una che si basa proprio su un immaginario semplice per tutti, cioè il teatro provvisorio, temporaneo, che si fa costruire un edile, Marco Emilio Scauro, qui a Roma nel 58 a.C. Allora, non perdo tempo a raccontare chi era questo personaggio, sicuramente non di primo piano. era un politico, per meglio dire tentava di fare una scalata politica che non gli è riuscita, però si è fatto costruire questo teatro spettacolare. E come conosciamo l'esistenza di questo teatro, di cui non conosciamo la collocazione precisa, sappiamo solo che era in Campo Marzio, quindi non troppo lontano da noi. Lo sappiamo perché ce lo racconta in più punti Plinio il Vecchio, in più punti della sua opera, Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia. E ce lo racconta proprio come, insomma, come monumento mirabolante. Mi sono presa gli appunti delle misure, proprio per dirvi come lavoriamo noi, perché da Plinio sappiamo che questo teatro, intanto un teatro tutti noi l'abbiamo incontrato nella nostra vita, da non confondere con gli anfiteatri, ovviamente, lo dico per i non addetti ai lavori, ma ognuno di noi ha in mente un teatro. Allora, costruiamolo mentalmente, questo teatro, che ha un primo livello rivestito di blocchi di marmo, di lastre di marmo, un secondo livello rivestito di mosaici e un terzo livello ornato di pannelli di legno. Questo ci racconta Plinio, pannelli di legno dorato. Plinio ci dice che al livello inferiore della scena c'erano 360 colonne di marmo, di marmo luculleo, che era un marmo nero, ognuna alta 38 piedi romani. Ora, adesso divento un po' noiosa, però è lì che noi possiamo lavorare su questa misura, perché è la misura che ci permette di ricostruire l'intero teatro. Quindi, noi sappiamo che 38 piedi romani, il piede romano era 29 centimetri e qualcosa, quindi le colonne erano alte poco più di 11 metri. Allora, Plinio ci dice anche che c'era un apparato figurativo di 3000 statue di bronzo e aggiunge che c'erano anche quadri della scuola di Sicione, che era una scuola greca molto famosa. In più, ci dice che accanto Emilio Scauro aggiunge uno zoo, cioè espone 150 fiere, tra cui un ippopotamo, 5 coccodrilli, per i quali fa scavare una vasca, un euripo. Quindi c'è anche una piscina di fianco e una sorta di museo che espone le ossa del mostro marino da cui è stata liberata Andromeda. Allora, una specie di grande museo accanto al teatro. Torno alle dimensioni del teatro, perché qui siamo in un luogo evocativo che ci dà anche l'idea proprio dell'impatto monumentale, perché, ecco, qui interviene Vitruvio, che ci racconta come doveva essere costruito un teatro per moduli. Immaginiamoci come modulo il mattoncino Lego, per intenderci. E quindi, sulla base proprio delle proporzioni che ci dà Vitruvio, l'architetto romano, possiamo calcolare, ci dice per esempio che l'orchestra, cioè quell'emiciclo alla base di ogni teatro, era pari a quattro volte l'altezza dell'ordine inferiore, quindi 11 per 25 centimetri per 4, per cui era lunga 45 metri. La scena era il doppio delle misure dell'orchestra, quindi era lunga 90 metri. Non vi tedio con tutte le misure analitiche, però alla fine il teatro doveva essere alto circa sui 37 metri. Allora, io ho voluto dare un esempio del metodo combinatorio che noi usiamo per ricostruire un edificio antico quando non abbiamo altri elementi, usando, cioè, non degli elementi archeologici, ma usando delle conoscenze di altro tipo, quello che in un linguaggio non molto divulgativo noi chiamiamo le fonti. Noi diciamo, le fonti dicono che, ma chi sono le fonti? Cosa sono le fonti? Le citiamo, ecco, in questo caso, due fonti autorevoli come Plinio il Vecchio, che tutti conosciamo perché poi è morto durante l'eruzione del Vesuvio, quindi sono nomi che fanno parte dell'immaginario collettivo e anche Vitruvio credo che sia noto a questo pubblico. Dalle fonti sappiamo anche, appunto sempre da Plinio il Vecchio, sappiamo che questa struttura temporanea, che Plinio definisce teatrum temporarium, viene smantellata dopo un mese e quindi viene poi, i vari elementi vengono riutilizzati e disseminati a livello sia pubblico sia privato, nel teatro di Marcello, sempre nel Campo Marzio, e anche a livello privato presso le abitazioni di Roma e di Tuscolo di Emilio Scauro. Allora, perché ho scelto questo esempio? Perché, oltretutto, ecco, abbiamo anche il numero degli spettatori che ci dice Plinio, 80.000, perché, intanto per dare l'idea veramente del metodo, ma anche perché questo è un esempio di incontro con il pubblico nel mondo antico, un incontro che è volto ai temi della propaganda, perché questo personaggio, ripeto, che non era poi così famoso, voleva fare carriera politica. e il modo, come ieri, come per tutta la storia, il modo, la propaganda è stato, veniva attuata secondo modalità, prima di tutto di incontro con il grande pubblico e con la cittadinanza. Quindi, questo è un po' il senso di questo intervento, che non ha, intenzionalmente, non ha voluto immagini, perché proprio il mio intendimento è di farvi immaginare questo teatro che doveva avere, proprio doveva essere alto come queste murature. Doveva, pensate, un teatro ornato, immaginiamocelo proprio, su tre livelli, con mosaici, con sfavillanti sotto il sole, con statue di bronzo, 3.000, un'enormità, che doveva suscitare una grande meraviglia, un grande stupore. E questa scelta, ripeto, io l'ho voluta anche per dare un senso al nostro lavoro, perché tante volte ci si sente inutili a dire ma perché io devo raccontare di un edificio che non c'è più, che è stato smontato? Beh, anche per raccontarlo, per spiegare che c'era e anche questo dà un senso, prima di tutto, a noi, al nostro lavoro. Cioè, ci fa capire che anche raccontando scientificamente abbiamo un'utilità sociale. E con questo mi fermo. Grazie. 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 Grazie.